C'è fermento, lo ha ricordato più volte nel corso dell'appuntamento che si è svolto in piazza a Trepuzzi dove la candidata d'opposizione Katia Orlandi in vista delle prossime elezioni amministrative ha presentato la sua lista che racchiude in sé le anime migliori della società civile della città così come da lei ha fermato durante l'incontro. Un appuntamento importante per dimostrare la voglia e soprattutto la qualità delle persone che sono scese in campo al suo fianco per offrire un'alternativa al governo di Taurino che arriva da 5 anni di gestione a Palazzo di Città. C'è voglia di cambiamento, c'è voglia di rinnovamento. Ad ogni incontro sentiamo l'affetto e l'empatia che si crea con i nostri concittadini. Non siamo solo 16 candidati, come piace dire, ma tutta la cittadinanza è impegnata in questa campagna elettorale che ci deve portare al rinnovamento e al cambiamento. I cittadini di Trepuzzi, il 3 e il 4, possono cambiare la storia di questo Paese. E noi questa serata ci siamo presentati, gli abbiamo proposto il nostro programma di governo e abbiamo chiesto la loro fiducia.